Ritorna dal prossimo weekend a Montesilvano l'appuntamento con lo Zito 3x3, torneo di street basket ma anche musica, street football e tanto divertimento in ricordo del giovane cestista Marco Zitella. Giunta la 14esima edizione, la manifestazione è che anche il riconoscimento della Federazione Basket vuole essere un omaggio con gioia e senza tristezza a Marco Zitella, giovane e talentuoso giocatore di basket e figlio della collega Tony Zitella, tragicamente scomparso a soli 17 anni in un incidente stradale nel 2011. L'evento è presentato ieri dai promotori della Virtus Basket, dal comune di Montesilvano con il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei e della 9T Studio che curerà l'intrattenimento musicale. Alla manifestazione che ricordiamo prevede partite di basket 3x3 parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia, dagli under 14 ai senior.